Ciao ragazzacchi, io sono Biccio125 e siamo qui su Carmeccanics 2015. Allora, prendiamo subito un nuovo lavoro. Accetta lavoro. Cosa c'è qua? Si tutelisci tutti i filtri. Facciamo questo che non l'abbiamo mai fatto. Vai, andiamo con i filtri. Vediamo cosa c'è con questi filtri. Tutti i filtri c'è quello della benzina, quello dell'aria. Benzina, più che benzina è meglio dire carburante. Poi c'è quello dell'olio, fammi vedere se è vero. Olio, aria e carburante. Ok, perfetto. Allora, apricofano. Infiliamoci qui dentro. Quindi l'aria dovrebbe essere qui. Smontalo. Ah, guarda che figata. Hanno messo i fermi. Sì, perché comunque è vero, i filtri non sono a buro, cioè mesi con 45 burocini. C'hanno dei fermi. Quello dell'aria deve solo aspirare. Allora, prendiamo questo, tiriamo via quello dell'aria. Quello dell'olio, filtro e carburante, lo vedo qua. Era dall'altra parte nel 2015. Quello dell'olio dovrebbe essere qui in basso, di solito. Filtro dell'olio. Eccolo. Questo qui. Allora, accessibile sotto il sollevatore. Va bene, allora spostami la macchina, no? Sta cosa qui di spostare la macchina non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Perché diventa un casino. Diventa. Vai, alza. Che cazzo ci vuole per alzare la macchinina? Attento che non sbatti... Guarda che sbatte lì sopra. È proprio una bella posizione l'avete messo. Allora, andiamo qui dentro. Come si fa a entrare? Ok, si entra così. Filtro dell'olio, dammelo. Andiamo a cambiare questi tre filtri. Vediamo se possiamo sistemarli, che risparmiamo qualche scoccosina. Tipo, il filtro dell'aria certe volte lo puoi anche solo aspirare. Cioè, fai una soffiettina, tipo. No, niente soffiettina. Mi fai una soffiettina se è nuovo, magari un po' solo... si riprende, ecco. Telefono? No, qua. Andiamo al computer. Scriviamo filtro. Ovviamente c'è ancora scritto quello dell'altra volta. Allora, filtro dell'olio. Filtro dell'aria. Lo compiamo subito. applica. Filtro dell'olio. Lo compiamo subito. E quello della benzina dov'è? Filtro del carburante. Ok, dico sempre benzina, ma devo dire carburante. Non capisco perché continui a dire benzina. Allora, entriamo qui dentro. Montaggio. Montiamo il filtro dell'olio. Nuovo, ovviamente. Lo vuole nuovo. Scusi. 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 Poi, qua ci deve essere... non lo vedo. Non lo vedo da qui sopra. Non è accessibile. Non riesco a prenderlo. Ok, qua ci deve essere un altro... forza. Abbassa, me la accetto in mente. Queste e quelle le dobbiamo mettere dall'alto. Per forza dobbiamo metterlo dall'alto. Ok. Entriamo nel motore. Poi, mettiamo questo qui che ogni volta me lo perdo. Era più o meno qua, però non riesco a beccarlo. Dove cazzo me l'hai adesso? Ok, eccolo. Filtro del carburante nuovo. Mettiamo il filtro nuovo dell'aria. La copertura del filtro. perfetto. Tutti i fermini. Guarda che mi dà fastidio mettere questi fermini uno alla volta. Cioè, mettili. Chi sei frega. Dai. Ma guarda che non me lo fa mettere. Non me lo fa niente che selezionare. Ok. Fermo A. Fermo A. E fermo anche B. Ok. Dovrebbe essere finito sto coso. Fammi vedere. Sì, è finito. Termini del lavoro. Prendiamo proprio quattro soldi in croce. Vendiamo tutto qua. Applica. Un dollaro. Abbiamo detto un dollaro. Allora, finisce qua questa puntata molto molto veloce. Noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao.